carissimi followers o meglio seguaci di giulio cesare vallocchia so che siete in ansiosa attesa delle mie prossime pillole di vita privata che saranno le numero 17 dopo aver gustato le pillole numero 16 che vi hanno portato insieme a me nel ricordo di un viaggio in albania beh intanto le sto preparando le prossime pillole intanto potete godervi questo mio sonetto del 1968 quando ancora scrivevo poesie che si intitola civis romanus ed è un omaggio alla mia città roma dove mi trovo adesso bene sette generazioni dice er detto dei romanacci autentichi sputati ce vanno per formare senza un difetto nomo di roma a cente due carati ma certe volte a me vi è il sospetto che sti conteggi siano un po' sbagliati so sicuro che per fa un perfetto figlio dell'urbe basta aver passati solo pochi anni qua drento a ste mura solo pochi anni e la cittadinanza non è solo all'anagrafe sicura roma dentro nel core e nella panza drento ai bormoni come l'aria pura e indosenato non c'è più importanza bene spero che vi sia piaciuta e abbia compensato la delusione di non aver trovato i miei le mie pillole di vita privata numero 17 che arriveranno presto tranquilli buon lunedì oggi è lunedì 19 aprile 2021